Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Lucas Games su YouTube e su quella piattaforma viola dovete in live tutti i giorni trovate il link in descrizione. Proprio in questi giorni stiamo portando in live su quella piattaforma viola la carriera con i Wolverhampton in Inghilterra dove stiamo testando nuove idee tattiche, dove stiamo discutendo delle novità di FM22 e dove da oggi in poi andremo a provare anche le vostre tattiche in live. Quindi se avete voglia di avere dei consigli, se volete condividere con la community le vostre tattiche, questo è il momento giusto per cominciare a seguire Lucas Games se ancora non l'avete fatto anche su quella piattaforma viola. Ma il video di oggi di cosa parla? Oggi vi farò vedere come andare a modificare le skin di FM22 con tre pacchetti molto importanti, il pacchetto delle città e i pacchetti degli stadi, due pacchetti degli stadi per vedere sia la visuale interna che esterna dello stadio. Ovviamente bisogna avere delle skin che supporteranno queste mod grafiche. In sostanza ci sono tre macro tipologie di skin per FM, ci sono quelle che non supportano le immagini in background, ci sono quelle che supportano solo le immagini in background, come per esempio la skin di base di Football Manager e poi ci stanno le skin che invece hanno proprio dei quadretti specifici nelle info della società, dove ci sta proprio il quadretto per la città e il quadretto per gli stadi. Oggi vedremo sia la skin di base, come si comporta con questi tre pacchetti che andremo a scaricare e installare, sia vedremo come si comporta. Invece è una skin ben specifica, di cui parleremo poi nei prossimi giorni, che addirittura vi permette di avere tutti e tre questi pacchetti. Già oggi, già con FM22 in beta, è la prima che fa tutto questo. Partiamo quindi con lo scaricamento e l'installazione di questi tre pacchetti grafici. Partiamo quindi dal pacchetto delle città che potete scaricare dal sito di FMScout, questo è il link nello specifico, non vi preoccupate, ve lo lascerò chiaramente in descrizione e un pacchetto che si può scaricare anche per altri Football Manager. Anche se qui c'è scritto Fruit Skin Cities Megapack per FM20, vi assicuro che funziona anche con altre skin e funziona anche con altre edizioni di FM, non solo la 20. Quindi andiamo direttamente su Download Now, verremo reindirizzati su un sito esterno dove materialmente è stato caricato questo materiale. attenzione, ci siamo spostati su un mega, non serve assolutamente avere un account, vedete come io non ho fatto alcun tipo di login, basta andare quindi su Scarica e si avvierà il download. Come vedete ci vorrà un po' di tempo, si tratta di un giga e otto per quanto riguarda le città. Vediamo adesso come scaricare anche gli altri due pacchetti, ovvero quelli relativi agli stadi. Il primo è l'FMT Stadium Super Pack per FM20, ma vi assicuro che anche questo funziona per i successivi Football Manager. Quindi andiamo su Download Now, verremo anche in questo caso reindirizzati su un altro sito esterno, questa volta su Mediafire. Ovviamente anche qui non dovremmo far altro che cliccare un'altra volta su Download, quindi andiamo su Download, qui si tratta di un file un po' più piccolo, circa un giga e mezzo. Andiamo adesso sull'altro pacchetto degli stadi, quello secondario, quello più grosso che pesa 3,6 giga. Anche quest'altro pacchetto degli stadi si scarica sempre dal sito di FM Scout, anche in questo caso chiaramente vi lascerò il link in descrizione. Andiamo su Download Now, anche in questo caso verremo reindirizzati su un sito esterno, ancora una volta Mega per quanto riguarda questa situazione. E anche per questa situazione, vi ripeto, non serve fare il login, andiamo semplicemente su Scarica. Chiaramente il computer ci metterà un po' per scaricare il tutto e attenzione perché se non avete un profilo a pagamento per Mega, dopo un tot numero di giga scaricati al giorno vi blocca. Quindi insomma io sono riuscito a scaricare l'altro pacchetto, questo invece richiederà di attendere 5 ore. Quindi dovrò aspettare 5 ore perché ovviamente non farò il mensile su Mega, però insomma ci vediamo quanto riuscirò a scaricare tutto il materiale. E una volta terminati questi tre download non vi resta altro da fare che andare nella cartella dove voi normalmente scaricate il materiale da internet che per me è proprio la cartella di download. Questi tre file che abbiamo scaricato sono il CDPIC che riguarda il pacchetto delle città, l'FMT Stadium Super Pack che riguarda il pacchetto di stadi, quello più piccolo, e poi abbiamo anche quello superiore ai 3 giga, ovvero il Fruit Skin Stadium Pack. Sì, questo è stato scaricato l'anno scorso perché non volevo certo aspettare 5 ore affinché potessi poi scaricare il pacchetto che vi ho fatto idea oggi, ma è lo stesso praticamente, non è cambiato nulla anche perché sono stati aggiornati tantissimo tempo fa, quindi andava bene anche quello dell'anno scorso. Ad ogni modo vi faccio vedere adesso come si estrae uno di questi pacchetti, poi siccome si estraggono tutti allo stesso modo, insomma gli altri due me li estraggo a telecamere spente. Vi servirà ovviamente un programma di decompressione gratuito come può essere un RAR 7-Zip, io utilizzerò 7-Zip, quindi tasto adesso il mouse in corrispondenza ad esempio di CDPIC, si apre questo piccolo menu, andiamo su 7-Zip e andiamo su Estrai in CDPIC 19-20, quindi attendiamo che l'estrazione chiaramente termini. E ripetete il procedimento anche per altri due file. E una volta terminata l'estrazione di tutti e tre i file avremo queste cartelle omonime, quindi non ci resta altro da fare che cliccare all'interno di CDPIC 19-20 e prendere la cartella interna che si chiama appunto CDPIC, tasto adesso il mouse in presenza di CDPIC, si apre questo menu, andiamo su Taglia o su Copia, poi ci spostiamo in Documenti, Sports Interactive, Football Manager 2022, poi andiamo in Graphics, qui dovete semplicemente utilizzare il tasto adesso del mouse in un punto qualsiasi dello schermo, si aprirà questo piccolo menu e andate su Incolla. Ora dobbiamo ripetere l'operazione anche per gli altri due file, quindi ritorniamo un'altra volta su Download, andiamo ad esempio sul pacchetto Fluteskin Stadium Pack, andiamo a prendere la cartella Stadium, la copiamo come al solito o facciamo Taglia, torniamo un'altra volta in Documenti, Sport Interactive, Football Manager 2022, anche questa va messa all'interno di Graphics, quindi tasto su mouse in un punto qualsiasi dello schermo e facciamo Incolla. Torniamo in Download, prendiamo anche l'ultimo pacchetto, ovvero quello relativo allo Stadium Super Pack 20.1, entriamo all'interno di questa cartella e copiamo questa, ovvero la FM Stadium Super Pack. Facciamo Taglia o Copia, andiamo un'altra volta su Documenti, Sport Interactive, Football Manager 2022, e andiamo un'altra volta all'interno di Graphics. Tasto sul mouse in un punto qualsiasi dello schermo e andiamo su Incolla. Abbiamo messo tutti e tre i file nel posto giusto e adesso e solo adesso avviamo FM22. Questo passaggio è molto importante, andate in Preferenze, dopodiché vi spostate da Generale in Avanzata, qui dove c'è scritto Più Comuni ci cliccate e andate su Interfaccia, dove c'è scritto Skin, qui in basso dovete assolutamente verificare che la prima casellina sia deselezionata, ovvero usa la cache per ridurre i tempi di caricamento, e che sia invece selezionata la casellina ricarica la skin quando si confermano le modifiche. Se non eravate ancora in questa condizione andate su Conferma e attendete il caricamento dell'interfaccia. Se eravate già in questa condizione vi potete spostare un'altra volta su Generale e a quel punto dovete ovviamente selezionare una skin che supporti questi pacchetti, perché questo voglio che sia chiaro. Voi vedrete esattamente sia le città, sia il pacchetto degli stati con visuale esterna, sia il pacchetto degli stati con visuale interna, solamente se la skin sarà abilitata a farvi vedere queste cose. Vediamo cosa accade per esempio con la skin di base di Football Manager, ovvero quella appunto presente già all'interno del gioco. Quello che vi consiglio di fare ogni volta che aggiungete il materiale grafico è sempre andare su Svuota Cache e poi andare su Ricarica la skin. Attendiamo che chiaramente il processo termini e poi abbiamo un save qualsiasi di Football Manager. Adesso con la skin di base, come vedete, è cambiato lo sfondo, perché la skin di base di FM22 supporta le immagini in background, quindi se mettete qualche immagine nella componente graphics la vedrete ovviamente come background e non fa vedere semplicemente lo stadio come in questo caso, perché se ci spostiamo in un'altra sezione vedete che ci fa vedere anche un'immagine della città di Roma, ovvero il Colosseo. Cambiamo adesso skin, mettiamone una che invece supporta addirittura tutte e tre questi pacchetti, non solamente come background, ma anche come riquadretti, così si può vedere anche meglio in tutto il loro splendore queste immaginette. Carichiamo la Flute Skin. Questa è la Flute Skin di cui parleremo, chiaramente nelle prossime ore non vi preoccupate, la sto già testando, ma quello che vi voglio far notare è che non solo questa skin permette le immagini in background, ma volendo per chi magari non vuole l'immagine in background, perché magari gli può dar fastidio, può anche selezionare uno sfondo differente con questa skin e possiamo mettere magari uno sfondo tutto scuro, così capiamo dove invece si vedono i giusti di quadretti dei tre pacchetti che abbiamo scaricato oggi. Per esempio, se andiamo in Info Societarie, abbiamo il pacchetto delle città che sarà proprio in questo di quadro e qua vediamo il pacchetto degli stati. Attenzione, guardate bene cosa accade al pacchetto dello stadio. Al centro si vede chiaramente l'Olimpico, da dentro, ma poi passa qualche secondo, l'immagine cambia in dinamica e si vede chiaramente lo stadio olimpico dall'alto. Quindi insomma, questa skin di cui parleremo nelle prossime ore, che fa tante altre cose, permette addirittura la visuale di tutti e tre questi pacchetti e non per forza in sfondo. A me sinceramente piace più il discorso dell'immagine nel suo riquadro, perché come sfondo si perde veramente la bellezza di queste immagini che invece si possono apprezzare tantissimo con una schermata dedicata come in questo caso. Oggi abbiamo visto quindi come scaricare e installare il pacchetto delle città, il pacchetto degli stati con visuale esterna e il pacchetto degli stati con visuale interna. Ovviamente questo video è universale, nel senso che questi pacchetti possono essere sfruttati con tante skin diverse, però queste skin devono abilitarli in qualche modo, o come ovviamente immagine e-bankground, o come riquadretti come la fruit skin che abbiamo visto in precedenza. Quindi di per sé questi pacchetti sono universali, ma ripeto, poi dovrete informarvi sulla specifica skin che state utilizzando, se li abilita o meno. Chiaramente quest'anno andremo a recensire una valanga di skin, così come abbiamo fatto l'anno scorso, e ogni volta che andremo a recensire la skin diremo questa abilità o meno, i vari pacchetti grafici, le varie mod. Attenzione però, perché questa descrizione di questo stesso video l'andrò ad aggiornare, ovviamente periodicamente, segnalandovi tutte le skin che supportano anche questi tre pacchetti di oggi. Non mi resta altro da fare che salutarvi, ci vediamo al prossimo video qui su YouTube per quanto riguarda il canale Lucullus Games. Buon salvone! Grazie a tutti!